Bene, benvenuti in Sartine, oggi degustiamo un vino prelevandolo dalla Wine Emotion. La Wine Emotion è un dispenser che ci consente di autonomamente prelevare bicchiere di vino scegliendone in questo caso tra 16 diversi con la nostra card. Noi infiliamo la card all'interno della fessura e scegliamo il nostro vino. Oggi scelgo il Franzas Pinot Nero Rosé tra una scelta di vari vini rosati, in questo caso sono 4 vini rosati e 4 vini bianchi che sono già in perfetta temperatura di degustazione. Bene, eccoci al momento della degustazione del rosato che abbiamo prelevato dalla Wine Emotion. Come abbiamo detto si tratta del Pinot Nero Rosé di Franzas. Le uve provengono da un vigneto collocato a circa 700 metri d'altezza, pigiato e prodotto come un vino bianco. Il colore di conseguenza è un rosso ciliegia scarico. I profumi sono quelli classici di un rosato da Pinot Nero e quindi innanzitutto possiamo sentire l'espressività dei frutti di bosco e della ciliegia, ma anche di erbe aromatiche e un finale particolare di cacao. In bocca ha un equilibrio perfetto rinfrescante, è un vino di bella struttura e di vino nero, è un vino importante, possiamo berlo fra un anno tranquillamente, se no va addirittura fra due anni. L'annata 2018 ovviamente è già pronta per essere bevuta e in questo momento possiamo apprezzare effettivamente questa acidità rinvigorente e rinfrescante.